La squadra mobile di Gorizia ha arrestato a Tolone in Francia Carlo Rao, definito dagli investigatori il re delle truffe online ai danni di malcapitati turisti, ma non solo. L'uomo ha 35 anni e deve già scontare una condanna a cumulativi 28 anni di cacere, specie per reati contro il patrimonio. Sulla testa del truffatore, nato a Monfalcone, pendeva un mandato di cattura europeo. Gli inquirenti lo accusavano di aver messo a segno migliaia di truffe online per circa 500.000 euro di guadagni, ma la cifra sarebbe sottostimata. A Tolone, Rao aveva assunto la falsa identità dell'immobiliarista Andreas van der Helden. Il Monfalconese era stato smascherato una prima volta nel 2008 da un servizio televisivo del programma di Canale 5 Matrix. L'uomo era stato arrestato nel 2009 in Francia e poi scarcerato a luglio 2012. Non aveva però chiuso i conti con la giustizia, non avendo intenzione di farlo si era reso irreperibile, cioè latitante. Da un lustro Rao truffava la gente sul web, prima con i telefonini venduti su ebay, poi con i gioielli, le schede telefoniche, l'affitto di appartamenti in zone turistiche italiane e europee ed ancora promuovendo maxi sconti e offerte super sui siti di annunci. Tutto falso ovviamente. Incassati i soldi dell'anticipo, Rao spariva nel nulla e si inventava qualcos'altro. I veri affari, illeciti, Rao li ha fatti però vendendo pacchetti viaggi inesistenti, soprattutto viaggi in vacanza a Formentera. La banca Friuladria Credit Agri-Call continua nella sua trasformazione delle filiali in agenzia per te. Banche diverse, banche accoglienti, banche che danno più spirito di aggregazione ai clienti, mentre le operazioni si possono fare anche da sole. Questa è la filosofia che vi sta portando avanti, è vero direttore? Sì, il concetto, il modello di servizio è proprio dedicato all'accoglienza nei confronti del cliente, per cui è di ammodernamento di quelli che sono gli strumenti oggi tecnologici che sono a disposizione di tutti, quindi la multicanalità. Qui siamo a Gemona, che segue quella di Udile e quella di Cividale, ci sarà San Daniele. Gemona, patria di Alpini, voi siete stati presenti a questa durata degli Alpini di Pordenone. Sì, direi che lei ha citato una manifestazione che abbiamo vissuto profondamente, molto fresca ancora, è stata una cosa veramente strepitosa, incredibile, ed è un po' il segnale di quanto sia importante mantenere fede alle proprie tradizioni e alle gambe col territorio anche in queste manifestazioni, che trascinano anche valori di fiducia con l'innovazione, perché oggi investire, perché questi sono investimenti ovviamente di arricchimento, di relazioni con i confronti dei clienti, però anche un segnale di grande fiducia sul potenziale non solo della banca, ma soprattutto dei nostri territori. Tornando appunto all'Agenzia per te, qui si possono fare tutte le operazioni, uno può farle da solo attraverso le macchine? Esattamente, c'è massima disponibilità di tutte le macchine, sono strumenti per cui dai versamenti ai bonifici, pagamento bollente, tutta la parte transazionale è perfettamente autogestibile, è molto semplice, ci sono gli addetti all'accoglienza che insegnano, che assistono e tutta la filiale, visto che tutti hanno il cartellino con il proprio nome, è a disposizione il cliente ed è molto attenta alle proprie esigenze dei nostri clienti. Un'altra cosa, non c'è la cassa effettivamente? Non c'è la cassa fisicamente come l'abbiamo conosciuto finora, però c'è una cassa molto tecnologica, una parte che è a disposizione della città 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana. L'incontro tra i commercianti del Centro Storico di Udine di oggi nasce da uno studio effettuato sull'inquinamento della città di Udine. Perché vi ha spinto a intervenire? Cosa sta succedendo? Ci ha spinto quando la relazione di questo studio è soprattutto di un professore svedese, cosiddetto esperto, pagato non so da chi, certamente dai cittadini naturalmente. Questo studio che è durato diversi mesi ha stabilito che le polveri sottili non sono create nel centro di Udine, però Udine è vittima delle polveri sottili e soprattutto i provvedimenti, lo scrive molto chiaro il professore svedese, i provvedimenti prese fino ad ora dal Comune di Udine sono inutili. A questo punto è ovvio che noi che siamo penalizzati da tutti i provvedimenti che attua l'amministrazione, noi abbiamo deciso di denunciare il sindaco e la sua giunta. Cosa hanno comportato i recenti cartelli messi a Udine per ridimensionare il traffico regolarlo? È stato un disastro. Qual è la caratteristica di questi cartelli? Perché non spingono le persone a entrare e andare a comprare in centro? Intanto questi cartelli presentano delle scritte che sono decisamente ingannevoli, sono più piccole delle scritte che invece sono state destinate ai cartelli del parcheggio, quindi nel parcheggio si può vedere tranquillamente l'orario e il costo, a differenza tutte le classi non abilitate all'accesso al centro vengono scritte in piccolo dando quindi un messaggio ingannevole per coloro che vedono un cartello di divieto, quindi anche chi ha tutti i diritti per accedere al centro non ci accede. Che altre criticità avete segnalato? Ci sono diversi punti legati a questo provvedimento che a nostro parere non sono stati cavalcati nella giusta maniera, uno di questi che doveva essere fatto in collaborazione con la provincia e con la regione nonché con l'autorizzazione dove venivano dettate anche delle tabelle, degli orari, assieme a questi enti venivano scelti gli orari più opportuni per fare questo. Un'altra criticità è data dal fatto che doveva essere fatto in collaborazione e per avere anche un senso dei comuni limitrofi, quindi chiude Udine, chiude anche Tricesimo, chiude Tavagnacco, chiude Martignacco, chiudono tutti i comuni limitrofi a Udine in modo tale che quindi lo smog veramente si blocca, invece in questa maniera non ha alcun senso. Buone notizie per i cittadini residenti nel comune di Udine in vista delle scadenze fiscali. Negli uffici comunali e nelle sedi circoscrizionali sono in distribuzione i modelli 730 per le dichiarazioni 2014 da presentare CAF entro il 31 maggio. I moduli messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate si possono ritirare gratuitamente presso il servizio Entrate del Comune, in via Stringer numero 14 Barra, nelle portinerie comunali di via Beato Dorico da Pordenone, di via Lionello e anche in tutte le sedi circoscrizionali. Inoltre è possibile ritirare i modelli sulle portinerie comunali di via Beato Dorico da Pordenone dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.15 e lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.15 alle 16.45. Le sedi circoscrizionali invece osservano il seguente orario di apertura al pubblico lunedì dalle 10 alle 14, da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì anche dalle 15 alle 18. Filiera del latte made in Friuli, dopo il caso Latteria Friulana che vi ha lasciato sicuramente la mare in bocca, da dove si riparte per rilanciare il contesto territoriale? Devo dire che il nostro progetto è partito prima delle Vecine Latterie Friulane ed era autonomo e indipendente. C'è stata questa fase in cui ci siamo impegnati a portare termine con l'operazione, non è stata accettata e abbiamo ripreso il nostro progetto, quindi è una cosa che abbiamo già messo in campo. Parte dall'idea che serve una filiera friulana, serve dare l'identità al prodotto, serve che gli allevatori mostri nella faccia e firmino il prodotto, serve che qualcuno lo garantisca, come farà il Consorzio Agrario, che valorisi questa eccellenza di Friuli che è il latte. Quindi l'obiettivo è quello di valorizzare il prodotto agli allevatori, per remunerare meglio agli allevatori, per dare garanzia ai consumatori e per dare anche forse più occupazione e reddito al sistema economico friulano. Attestare l'origine del prodotto è uno degli obiettivi che vi ponete avviando la filiera? L'obiettivo ovviamente principale, visto che questa è la nostra missione, è quello di creare maggiore valore aggiunto per gli allevatori che oggi ne hanno particolare necessità, ma credo che il progetto sia particolarmente interessante anche perché, oltre a rispondere a questa esigenza, a questa necessità, va anche a favore del consumatore, perché questo prodotto garantisce l'origine, la tracciabilità, la qualità, quindi tutti gli aspetti dei quali il consumatore ne può beneficiare. Un modo per tutelare il made in Friuli, anche se abbiamo perso qualcosa con l'atterie? Indubbiamente, è un modo per valorizzare, per creare come si dice valore aggiunto su una materia prima, che spesso viene valorizzata al di fuori dei nostri confini, quindi il fatto di poterlo fare qui, oltre a garantire quelle motivazioni che dicevo un attimo fa, crea posti di lavoro, crea occupazione, crea economia. E il sostegno da parte del territorio, delle istituzioni c'è stato su questo percorso? Siamo partiti da soli, però una condivisione di fondo c'è e non vedrei come non può esserci su una cosa che ha questi obiettivi e che ha questi vantaggi che sono, come dico, 360 gradi. Con 15 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto, il Consiglio Provinciale di Gorizia ha approvato ieri il bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014-16 e il bilancio pluriennale 2014-16. L'illustrazione del provvedimento è venuta lo scorso martedì da parte dell'assessore al bilancio, Vesna Tomsisch, con il compendio di un supporto dovisivo proiettato in aula. Poi c'è stata la relazione del Presidente del Collegio di Revisore dei Conti che ha chiarito le ragioni e i motivi per cui il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole al documento programmatico. A seguire l'intervento del Presidente dell'ente provincia, Enrico Gerghetta, a cui seguita la relazione della Presidente della Commissione Consigliare Finanze e Bilancio Patrizia Mauri. A quel punto hanno chiesto chiaramente ai revisori dei conti presenti in aula e consiglieri Obizzi, Zotti e Clama. Il primo giro di interventi, su cui poi si è incentrata la discussione, è stato aperto dal consigliere di maggioranza Zanella, seguito da Delbello e da Lavrenschisch. È stata poi la volta dei consiglieri Zotti, Cumin, Bernardis, Nicoli e Vecchi. La seconda tornata di interventi è stata preceduta da un contributo del Presidente del Consiglio Provinciale, Gennaro Falanga e dagli assessori Cecot, Portelli, Tom Shish e Scernic. Le dichiarazioni di voto finale sono state rese dai consiglieri Zotti e Clama.